L'idea che avevamo all'inizio è quella di partire da un'attuale limitazione che è quella che la frazione di gestione calcolata mediante ecografia tradizionale, come ben sappiamo, non è in grado di predire l'incidenza di eventi aritmici in una popolazione impiantati con un defibrillatore in prevenzione primaria. Quindi quello che noi abbiamo fatto è andare a valutare la predittività di una serie di marker, chiamiamoli più nuovi, come lo stagione longitudinale o le misure di dispersione meccanica, proprio come predittori di rischio aritmico. Abbiamo arruolato una serie di pazienti consecutivamente e grazie all'aiuto statistico del Dipartimento di Biostatistica della North Carolina abbiamo dimostrato come lo strain longitudinale globale in effetti sia efficace nel predire il tempo al primo evento aritmico inteso sia come evento registrato dal defibrillatore sia come terapia appropriata dell'ICD e quindi shock oppure ATP, cosa che invece non si può dire per la frazione di gestione che non è il risultato predittivo di eventi aritmici. Quello che è stato visto inoltre è stata la predittività di queste nuove metodiche per gli eventi successivi. Sappiamo che pazienti col defibrillatore hanno spesso più di un evento aritmico e vanno incontro a più di una terapia. In quel caso non ci sono stati predittori diciamo utili per un'analisi oltre al primo evento. Quindi per concludere sono dati importanti a dimostrazione di come l'FE non sia più sufficiente per stratificare il rischio aritmico nei pazienti candidati ad ICD e nuove metodiche tipo lo speckle tracking possono essere utilizzate a basso costo e con buona efficacia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.